Ciao a tutti, oggi sono qua per prepararmi assieme a voi e è tantissimo che non facevo un get ready with me sul canale ma devo ammettere che quest'estate mi sto truccando veramente pochissimo infatti oggi vi farò vedere giusto quelle cose che se esco o qualcosa di importante uso sempre e vi racconterò un po' come mi sono avvicinata al mondo dell'uncinetto ultimamente alla maglia, ai ferri è una cosa che vi ha incuriositi molto su Instagram dove mi trovate sempre come chibistheway se ancora non mi seguite e quindi ho pensato di raccontarvi un po' da dove ho iniziato che cosa ho fatto e come mi sono approcciata ultimamente alla maglia ultimamente proprio negli ultimissimi giorni e intanto non sto qua a non fare niente ma appunto mi preparo assieme a voi vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo iscrivendovi abbonandovi, mettendo mi piace a questo video e commentando qua sotto in descrizione voi trovate il link a Ko-fi dove potete offrirmi una simbolica tazza di tè e tutti i miei codici e link da affiliato attraverso cui potete acquistare quello che volete una percentuale va a sostenermi quindi grazie davvero di cuore e tuffiamoci subito nel Get Ready With Me a mio avviso se sentite qualche rumore strano è il gatto sta correndo per la casa quindi non preoccupatevi è tutto sotto controllo faccio un po' ridere così quei capelli hanno indietro però non preoccupatevi è tutto sotto controllo parto come al solito con il primer potion di Urban Decay come base e poi andrò a usare la Noti Palette di Huda Beauty di cui userò in realtà soltanto un paio di colori un marroncino, sono ancora indecisa se questo o questo qua e poi nell'angolo interno andrò a usare questo ciao Daki questo colore luminoso e poi passerò direttamente al mascara perché come vi dicevo ultimamente faccio cose molto molto basiche e semplici perché fa troppo caldo dunque come mi sono avvicinata al mondo dell'uncinetto? dovete sapere che io ho imparato completamente da sola sia l'uncinetto che a cucire che in questi giorni a lavorare a maglia da sola nel senso che mi sono affidata a internet quindi mi sono guardata qualche video tutorial ho iniziato con l'uncinetto perché avevo visto su un canale che seguivo tantissimi anni fa che faceva origami perché a me piace molto fare anche origami avevo iniziato a postare video di amigurumi che sono questi tipo pazzi fatti appunto all'uncinetto e quindi io volevo imparare volevo farli anche io e quindi mi sono vista qualche tutorial per quel motivo lì quindi diciamo che non so fare i centrini non so lavorare l'uncinetto tipo macramè per intenderci però non ho negli anni fatto soltanto amigurumi ma ad esempio anche berretti, sciarpe ho fatto anche i guanti ho fatto diverse cose in realtà perché mi piace molto sperimentare poi all'inizio era partita come una cosa più appunto pupazzi, portachiavi cose un po' più kawaii e sfiziosa e crescendo più cose classiche che uno si immagina quando gli vai a dire che lavori all'uncinetto quindi lavori a maglia a maglia nel senso accessori e cose che si possono utilizzare sono partita utilizzando principalmente gomitoli di cotone sono abbastanza facili da reperire e anche come tessuto non è male guardando video soprattutto di persone americane ho visto che vanno molto i gomitoli anche in tessuto sintetico ma non fanno per me e come primo approccio io andavo in merceria semplicemente chiedevo appunto dei gomitoli ora, non in tutte le mercerie ho sempre trovato i gomitoli per fare ad esempio gli amigurumi quindi con un filo diciamo abbastanza spesso però ecco, girando un po' si riesce a trovare tutto l'anno scorso per reperire diciamo i gomitoli per fare le sciarpe e i berretti così che ho scelto in lana o misto alpaca li ho acquistati su internet da un sito che se non ricordo male si chiama Tessiland comunque ci sono vari siti se si cercano di gomitoli anche gli uccinetti li avevo sempre presi in merceria ma si possono trovare a gruppi di diverse dimensioni banalmente anche su Amazon quindi diciamo che i materiali sono abbastanza facili per quanto riguarda invece i tutorial come vi dicevo youtube poi mi ero imbattuta in un sito che si chiama Ravelry dove tantissime persone postano i loro schemi però diciamo che quello è il passo secondo me successivo da fare perché inizialmente quando magari non sai fare qualcosa è necessario vederlo se non hai la possibilità di vederlo dal vivo e quindi che qualcuno ti insegni i video secondo me sono la cosa migliore perché così si vede il gesto la posizione delle mani che poi con il tempo e l'esperienza diciamo può anche cambiare non penso che ci sia soltanto un modo unico di fare le cose però all'inizio vedere come fare i punti come tenere l'uncinetto dove va messo il filo penso che sia fondamentale poi appreso diciamo un po' la base si può passare lo schema scritto che non ti fa vedere che cosa devi fare ma appunto ti dice in che ordine utilizzare i punti e niente io negli anni ho fatto anche qualche mercatino dove vendere le mie piccole creazioni e devo dire che sono contenta comunque del percorso che ho fatto perché appunto ho fatto tutto da sola e sono progetti che comunque ti danno una grande soddisfazione chiaramente all'inizio magari non vengono bellini come vorresti però nessuno nasce imparato come mascara ultimamente sto utilizzando il Dark Love di Clio Makeup che non mi dispiace però ha una formula un po' troppo densa e tra virgolette pastosa quindi tende un po' ad appesantirmi le ciglia e ha un applicatore enorme che mi va sempre sempre a sporcare anche se sto molto attenta è veramente difficile che io non riesca a sporcarmi con questo scovolino qua quindi di solito lo appoggio appena e poi vado a ripassare il mascara con il Vicious di Nabla che invece ha uno scovolino molto piccolo molto preciso che pettina e separa molto molto bene le ciglia è una lavorazione piuttosto immersiva quella dell'uncinetto che io trovo particolarmente rilassante e come vi dicevo dà molta soddisfazione comunque anche se il progetto non viene proprio perfetto come si ci si era aspettati da soddisfazione e vedere qualcosa ha creato con le proprie mani il passo successivo è stato poi quello di imparare appunto a lavorare a maglia ora non dico che ho già effettivamente imparato a lavorare a maglia però negli ultimi giorni sono riuscita a fare ben due progetti il primo è uno scrunchie molto semplice molto base il secondo è ancora più semplice ed è uno straccetto per la cucina che ho visto sul canale di Kuto Vachico ve lo lascio magari linkato poi qua sotto è una ragazza che io seguo su Instagram perché fa delle foto molto molto belle e ha un canale YouTube dove dà consigli sulla fotografia e ultimamente si è messa a fare una serie di video proprio partendo dai principianti diciamo da livello base dedicati al lavoro a maglia perché lei l'ha fatto per un sacco di tempo se non sbaglio vendeva anche i suoi maglioni bellissimi tra parentesi e quindi mi son detta dai proviamo sicuramente ci sono tantissimi altri video cui affidarsi se si è alle prime armi però io già seguendola e comunque amando il suo lavoro il suo modo di fare e i progetti che aveva proposto per iniziare mi piacevano mi interessavano ho deciso di iniziare appunto con lei anche su Pinterest comunque ho visto che ci sono diversi mini video che spiegano piuttosto bene come fare determinati punti ho trovato più utile iniziare partendo proprio da da un progetto molto semplice piuttosto che fare dei punti a caso giusto per avere manualità e per imparare a farli ecco però questa è appunto la mia esperienza per come sono fatta io per quanto riguarda la base andrò a utilizzare lo skin realist di Nabla che non è super leggero sulla pelle un pochettino si sente però è per adesso il fondo più leggero che offro a quelli che utilizzo di solito quindi si sente meno ha una coprenza comunque piuttosto bassa è idratante lo trovo confortevole durante la giornata anche quando fa molto molto caldo non vado ad utilizzare nessuna polvere ma poi con il pennello che uso anche per il fondotinta vado a sfumare un po' di questo stick che uso come terra insomma per scolpire un po' il viso e poi come illuminante andrò a usare questo qua di MAC che è il soft and gentle quindi in questo caso io ho acquistato i ferri su Amazon li ho presi in bambù perché non so mi piacevano particolarmente li ho trovati anche ad un prezzo secondo me è onesto ho pagato 7 euro tipo 18 ferri ovviamente quando doveva passare il corriere ho iniziato a spalmarmi il fondo sul viso per fortuna la mascherina ha coperto il fatto che avevo messo il fondotinta soltanto di qua ma comunque non ricordo bene dove ero arrivata a parlare fatto sta che perché ho iniziato o comunque volevo iniziare a imparare a lavorare a maglia perché secondo me i ferri e l'uncinetto si prestano meglio per cose diverse ad esempio per fare alcuni berretti maglioni o sharp ci possono essere dei punti e delle tecniche per cui vengono in maniera differente a seconda che lo si faccia con i ferri o con l'uncinetto e quindi niente siccome è una cosa che mi piace particolarmente fare le cose a mano o comunque realizzare progetti per conto mio mi mancava questa skill del lavorare a maglia non conosco nessuno in famiglia che lavori a maglia quindi non potevo farmelo insegnare da nessuno e quindi mi sono buttata nel weekend di ferragosso tanto sarei stata a casa da sola mi ha presa la pazzia ho deciso di iniziare mi sono buttata chiaramente le prime cose che ho fatto non sono perfette per niente però mi ha aiutato molto per esercitarmi e farci un po' la mano già in passato in realtà io avevo provato a lavorare a maglia perché a casa di mia mamma c'erano dei ferri e forse avevo visto qualche tutorial su youtube o sempre su pinterest sinceramente non ricordo bene però mi sembrava super complicato e ricordo che avevo abbandonato non avevo fatto niente proprio perché mi ero lasciata scoraggiare facilmente mentre questa volta sarà che avevo ben in mente un progetto da fare da portare a termine non so non l'ho trovato così tanto difficile come mi sarei aspettata chiaramente con l'uncinetto hai soltanto un arnese in mano e con l'altra mano ti gestisci il filo in questo caso hai due arnesi in mano e ti devi anche gestire il filo ma non è così tanto difficile come mi sarei immaginata secondo me è più questione di far pratica e appunto prenderci la mano e capire bene i movimenti eccetera sono super casata per questa nuova avventura devo dire non so ancora quale sarà il prossimo progetto della rubrica di Kika questa ragazza che seguo però mi piacerebbe molto per questo inverno fare di nuovo un berretto o una sciarpa il sogno sarebbe fare un maglione però in quel caso devo trovare i gomitoli giusti io per adesso a casa ho tantissimi gomitoli tutti super colorati e in cotone perché li avevo acquistati appunto per i miei progetti all'uncinetto per fare gli amigurumi oppure ho fatto anche dei sottobicchieri un'altra cosa che mi piacerebbe imparare a fare all'uncinetto sono i granny square quindi questi quadratini che spesso hanno delle fantasie particolari di solito ci sono dei fiori ultimamente ho visto dei girasoli ma ho visto su Pinterest anche tipo dei gattivi e c'è gente che li fa o così da soli quadrati e poi li usa ad esempio come sottobicchieri oppure li unisce per fare coperte copricuscini maglioni e così via penso che potrebbe essere interessante tra l'altro mi è appena venuto in mente guardando le olimpiadi è successo che a non ricordo se era una finale penso di no forse erano le qualifiche dei tuffi femminili hanno ripreso Tom Daly che lavorava o all'uncinetto o a maglia mentre guardava appunto i tuffi e mi ha fatto un sacco ridere questa cosa perché non sapevo che lavorasse a maglia e quindi ho iniziato poi a seguirlo anche su TikTok dove ogni tanto fa vedere i suoi progetti ed è bravissimo anche su Instagram penso che abbia proprio un profilo dedicato ai suoi lavori e mamma mia se è bravo è bravissimo lui è un tuffatore quest'anno ha vinto sia l'oro nel sincro dalla piattaforma che il bronzo individuale a me piacciono un sacco i tuffi quindi sono particolarmente casata per questo motivo qua e niente sono presa molto bene perché come vi dicevo sono magari piccole cose che però ti danno soddisfazione perché comunque ti fanno sentire in un qualche modo utile no? sapere che qualcosa anche se non è super perfetta l'hai fatta tu ed è una cosa che magari puoi anche utilizzare tutti i giorni anche come idee regalo sono particolarmente belle secondo me perché è qualcosa di unico che la gente non può trovare in negozio da qualche parte perché l'hai fatto appositamente tu per quella persona quindi la trovo una cosa molto carina e soprattutto stimolante e ricordo che i primi tempi lavoravo all'uncinetto tenendo in sottofondo qualche serie tv o anime perché non mi piace l'idea di stare ferma e non fare niente o meglio di fare una cosa alla volta quindi avevo l'impressione di essere super produttiva di fare tante cose e ripeto mi rilassava particolarmente quindi sulle labbra vado a utilizzare questo lucida labbra di Nars che è Summer Fire è un po' sul rosa freddo e quasi metallizzato voilà giusto un piccolo tocco e poi vado a utilizzare il setting spray di Kiko della Fruit Explosion soprattutto perché è molto fresco e sento che unisca bene il tutto anche se non ho messo ad esempio il correttore non ho messo cipria riesce secondo me a uniformare a fondere bene i vari prodotti mi da questa freschezza in più tra l'altro ha un buonissimo profumo di cocco sa di estate sa di cocco e vaniglia dovrebbe sapere in realtà di anguria così c'è scritto ma fidatevi sa di cocco e vaniglia questo è quindi come mi trucco ultimamente molto semplice come vedete utilizzo veramente pochi prodotti a volte non metto nemmeno l'ombretto sugli occhi o altre volte non metto nulla sulle labbra soprattutto se devo mettere la mascherina però diciamo che bene o male sono questi prodotti che utilizzo ultimamente fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi piacerebbero video diciamo interamente dedicati all'uncinetto e alla maglia soprattutto magari ai miei aggiornamenti prime impressioni i progetti che ho fatto se ho trovato dei tutorial carini o meno non so su instagram eravate molto molto entusiasti vi ho visto belli carichi molti mi avete detto che lavorate anche a punto croce cosa che io ho fatto quando ero però più piccola perché mi aveva insegnato mia nonna comunque sono molto contenta perché io adoro fare questi piccoli progetti a mano quindi se mi può interessare lo faccio più che volentieri spero di avervi tenuto un po' di compagnia noi ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao